Ha aperto questa mattina a Castegnato in Via Padana Superiore il nuovo Lidl, che sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8 alle 22 e la domenica dalle 8 e 30 alle 20. Il punto vendita si articola su una superficie di oltre 1300 metri quadri per oltre 2000 prodotti di assortimento, di cui l'80% di prodotti made in Italy. Da sottolineare il ricco reparto panetteria e la zona dedicata ai miei genitori con una gamma di articoli pensati per le esigenze dei più piccoli. L'apertura ha portato alla creazione di nuovi posti di lavoro. Questa, in ordine di tempo, è soltanto l'ultima apertura di Lidl sulla nostra provincia. A breve ce ne sarà infatti un'altra. Il concept dei nuovi store Lidl, quello di Castegnato compreso, è estremamente attento all'ecosostenibilità della struttura, come conferma il direttore regionale. Il nuovo format di Lidl, questo qui a Castegnato, rispecchia esattamente la nuova immagine che Lidl ha, un'immagine funzionale e moderna. Esempi su tutti, la coibentazione dell'immobile, abbiamo utilizzato materiali altamente coibentanti, la presenza in copertura di un pannello fotovoltaico da 50 kilowatt, la presenza di colonnine per le ricariche delle automobili elettriche e le ampie vetrate che vedete sul fronte per garantire una luminosità naturale anche all'interno del punto vendita. Sì, attualmente sulla provincia di Brescia abbiamo 20 punti vendita e abbiamo 275 dipendenti in forza. È prevista anche tra due settimane l'apertura di un nuovo punto vendita a Castelmella, esattamente il 26 ottobre. In questo punto vendita abbiamo assunto 10 nuovi collaboratori. Sì, certo, abbiamo un assortimento di 2000 articoli, di cui l'80% è made in Italy, questo ci teniamo sempre a sottolinearlo. In particolare ci teniamo a sottolineare la gamma Italiamo, che rispecchia un po' le tradizioni del nostro paese. Grazie. Grazie.